Buonasera amici di Otto Channel, ben ritrovati con un nuovo appuntamento con Offside Serie B. Doveva essere l'ultima spiaggia, la partita che avrebbe potuto tenere ancora vive e accese le speranze del Benevento, visto e considerato che nell'anticipo del venerdì il Perugia aveva perso addirittura 5-0 in casa contro il Cagliari, il Perugia sempre più a fondo in classifica. Benevento che si era portato in vantaggio a Cittadella col primo gol in stagione di Pettinari, raggiunta già nel primo tempo da vita, poi nella ripresa il tracollo, addirittura sconfitta per 3-1 alla formazione. Di Agostinelli, la matematica dice che il Benevento non è ancora in Serie C perché al Brescia basterebbe, Brescia che gioca domani contro il Parma, al Brescia basterebbe un punto perché porterebbe a 7 le lunghezze di distanza dall'ultimo posto. Il Benevento con due gare ancora da giocare non potrebbe più raggiungere i Lombardi. Una sfida davvero che il Benevento doveva vincere, una sfida che era iniziata bene, ripeto, con il gol di Pettinari, poi il tracollo nel finale, squadra che davvero è sembrata arrendevole, squadra che è sembrata nel secondo tempo, nonostante almeno le tre occasioni fallite nella ripresa, davvero è sembrata quasi arrendevole, quasi non crederci più. Chiaramente analizzeremo i fatti, analizzeremo il post partita, lo faremo come sempre in studio con Billy Nuzzolillo, a cui do il bentrovato. Ciao Pasquale, buonasera degli spettatori. E dal tombolato c'è la nostra Sonia Lantella, vado subito da lei perché so che chiaramente avete il ritorno da affrontare e quindi i tempi sono strettissimi. Buonasera, è ben trovata anche a te Sonia, non c'è ancora la matematica che condanna il Benevento, retrocessione che potrebbe arrivare domani qualora il Brescia facesse punti a Parma, però il Benevento è di fatto con quasi tutti e due i piedi in Serie C, peccato perché il gol di Pettinari aveva lasciato ben sperare, Benevento non avrebbe lasciato l'ultimo posto in classifica, avrebbe raggiunto la spalla a 35, però era partito bene. Poi il gol di vita e nella ripresa, peccato perché le due occasioni fallite clamorosamente da Farias potevano far sì che parlassimo di altra partita. Invece così non è stato. Buonasera e ben trovata a te. Buonasera a voi qui dal Tombolato, beh hai detto bene, insomma questa rappresentava l'ultima spiaggia, la partita Speranza per continuare a credere in una salvezza, ma il gol di Pettinari ha soltanto illuso in una partita che se vogliamo si rispecchia in una stagione da incubo per i giallorossi. Io ti dico subito Pasquale che non parleranno i tesserati, non ci sarà l'allenatore Agostinelli, ma parlerà soltanto il presidente Oreste Vigorito che tra l'altro è pronto. Quindi ecco io ti cedo momentaneamente la linea per poterlo microfonare, ascoltare le parole del presidente Oreste Vigorito. Perfetto, grazie mille Sonia. Ritorniamo subito da voi a breve le dichiarazioni del patron. Billy, un flash anche con te. Nel finale le reti di Maestrello e Carriero hanno definitivamente, ripeto, la matematica non ancora condanna il Benevento, ma di fatto hanno condannato il Benevento, no? Sì, è stato l'ultimo atto, come diceva Sonia, di un'annata che è nata male, è proseguita peggio ed oggi insomma è l'atto finale probabilmente di questa stagione che ha regalato tante delusioni innanzitutto al presidente Vigorito ma poi anche soprattutto ai tifosi del Benevento insomma che hanno dovuto assistere a quello che è accaduto oggi che abbiamo visto sul campo insomma una squadra che è andata in vantaggio e che poi si è sciolta come neve al sole. Sotto un caldo torrido i veri vincitori sono ancora una volta loro che hanno seguito la squadra anche a Cittadella. Peccato Billy perché era partito bene il Benevento, no? L'illusorio gol di Pettinari anche se il Cittadella aveva un po' sbandato in divisa nei primi 15 minuti il Benevento poi al diciottesimo il gol di Pettinari ma anche io dico il gol preso a difesa praticamente schierata, no? Il gol di vita sul finale del primo tempo o meglio alla mezz'ora, perdonatemi, del primo tempo al ventottesimo di fatto certifica i problemi, no? Di una stagione intera. Sette barra otto uomini del Benevento in aria, nessuno chiude sull'attaccante del Cittadella, esce Manfredini nella disperata e vita segna praticamente a porta vuoto. Pasquale anche i tre gol subiti oggi dal Benevento rappresentano un po' simbolicamente quello che è accaduto durante l'annata, tanti gol presi per errori individuali e di collettivo, gol banali che il Benevento ha subito e che chiaramente spiegano poi i numeri che vediamo impiedosamente in classifica. Assolutamente sì e pensare, Billy, che nel secondo tempo aveva avuto almeno due palle gol il Benevento con Farias, ma anche lì che ha chiuso troppo il destro perché staremmo a parlare di un'altra partita, ma poi Billy non si può prendere gol su un calcio d'angolo ancora una volta a difesa schierata senza che la difesa, ti devo interrompere però me lo dici dopo perché ritorniamo al tombolato di Cittadella dove in compagnia della nostra Sonia Lantella c'è il presidente, il padrone del Benevento Oreste Vigorito. Vengo da voi, Sonia. Sì, grazie Pasquale, ci ha raggiunto il presidente Oreste Vigorito per, credo, parlare insomma ai tifosi, a tutti, alla piazza. Sì, buonasera a tutti. No, io non voglio aggiungere o dire parole perché questo non è il momento delle parole. Voglio dire ai tifosi che non è certamente un atto di consolazione, ma che è sottoscito solo oggi, per la prima volta, dopo 17 anni, a Zabaldera Bianca. Cioè, devo accettare che non siamo riusciti a fare quello che tutti quanti avremmo desiderato. All'inizio a cominciare un campionato come volevamo, dignitoso, e via via facendo abbiamo fatto la fine degli studenti che vanno a scuola e pensano di studiare tutti i padrone vestiti. Certamente il mio pensiero va, il mio pensiero e il mio ringraziamento, il mio pensiero va a tutta la tifoseria giallorossa che in due anni ha visto, in un anno, ha visto Gifanile 17 anni di sacrifici che ha condiviso con me e che in questo momento mi fa solo pensare che ho tolto il sorriso a qualcuno e naturalmente vorrei che lo sapessero, l'ho tolto anche a me stesso. Il calcio è una parte della mia vita, sono 17 anni che io vado sui campi di calcio. Sono 17 anni che non rinbianco, ma sono 17 anni che andavano proprio in mente, non ci ho fatto in questo modo in 11 mesi. Gli errori è il momento di farli, è il momento di fare un'analisi, penso di no, non si fanno mai le analisi a sangue caldo, si fanno le analisi per cercare di non ripetere gli stessi errori. Io credo che è stato un anno molto difficile, molto difficile per gli errori di tutti e per quello che è poi l'imbonderabile del gioco del calcio. Anche oggi non è che si pensasse che si poteva arrivare qui, vincere e poi fare la corsa, ma la speranza del cuore c'è sempre. Io mi rivolgo a tutti e vi dico, una volta vi dissi, non ha mai nate le vostre bandiere, ma avevamo perso una finale per andare in Serie A. E io ero presidente da due anni, c'era tanto di più. C'era la voglia di un raguardo che tutta la città ha desiderato e che io ho avuto un onore di rappresentare e di dare a questa città. Vorrei dire che i colori giallorossi sono i colori del mio calcio, non del calcio, del mio calcio. Il mio calcio è di colore giallorosso. Io dipingerei, se potessi, gli stadi di tutta Italia di giallorosso. Farei i palloni di colore giallorosso, farei il prato degli stadi di colore giallorosso. Purtroppo i colori qualche volta si periscono. Rimangono i ricordi. Io mi auguro che in questa amarezza che colpisce tutti, la città, la diffuseria, le istituzioni, qualcuno, a partire da me, faccia un'analisi dei propri errori. E non solo quelli degli altri. Perché, come dico qualche volta parlando in un'altra sede, e tutti lo sapete, certamente gli altri fanno gli errori, certamente noi facciamo gli errori. Ma noi siamo gli altri per voi e voi siete gli altri per noi. Cercare il colpevole non c'è. Il colpevole è il Benevento Calcio, società sportiva guidata da sottoscritto, con una serie di addetti ai lavori che, mi auguro in buona fede, hanno fatto il massimo per non arrivare a questa giornata. Gli errori vanno rivisti in un momento di approfondimento. Per continuare, non è nemmeno il momento di parlare di questo. È il momento di stringere quelle bandiere, conservarle. Come quando si conserva il ricordo di qualcuno che è andato via. Trovare qualche posto in cui pensiamo che c'è. Qualcuno pensa che siamo delle stelle, che torniamo a essere stelle dopo la vita. Qualcun altro pensa che siamo nel soffio del vento, che io dico mio amico. Ecco, chiudiamo gli occhi e pensiamo non agli stati che abbiamo calcato, di Torino, di Milano e di altro. Pensiamo a tutte le volte che siamo stati insieme nella gioia e proviamo a stare insieme anche nel dolore. Perché è un dolore che condividiamo, che io condivido con tutti voi e che mi auguro che voi condividiate con me. Al di là delle responsabilità che mi assumo come Presidente, non sono certamente l'autore del tiro sbagliato, ma come dicevo prima a un signore, a un amico che mi ha venuto a salutare, è vero che io non gioco, ma sono io che li mando in campo. E quindi sono responsabile come loro. Restiamo sul tema calcio, perché poi chiaramente la vita è altro e noi stiamo parlando di calcio, però è evidente che c'è grande sofferenza per questa non ancora matematica retrocessione, ma insomma veramente ci siamo vicinissimi. Ecco, in questi casi, le ha detto, non è tempo di analizzare gli errori. Forse non lo sarà più, nel senso che se il Benevento fosse riuscito a salvarsi, in quel caso analizzare gli errori per non commetterli più in questa categoria poteva essere fruttuoso. Ora è un momento di grande disperazione calcistica. Ecco, quale può essere? Perché ci deve essere una parola di ottimismo per trovare poi la forza di ripartire. Insomma, ci sono squadre che, ecco, penso al Perugia, che hanno già rivisto la C dopo una retrocessione in B e sono tranquillamente tornati in serie B con una voglia ancora maggiore, anche se ora anche loro, insomma, non navigano in buone acque. Però ecco, una parola di ottimismo ci può essere in un momento sicuramente di grande disperazione calcistica? C'era un film di tanti anni fa che voi avrete sentito, quantomeno, che quando calava il sipario, pur davanti alle mille disgrazie, alle mille insuccessi che aveva avuto l'attrice protagonista, si affaccia, guarda lontana e dice domani è un altro giorno. Questa è l'unica parola che mi sento di dire, che domani è un altro giorno e sarà un giorno su cui il sole sorgerà, verrà i colori giallorossi sempre da qualche parte. Io mi auguro ancora a Ciro Vigorito, mi auguro che si utilizzi questa esperienza, guardi, non tanto per i tifosi di una volta, quelli che hanno la mia età, ma per quei ragazzi che oggi a vent'anni hanno vissuto 17 anni di grande calcio con il Benevento. Perché chi, come il vecchio tifoso, come il tifoso storico, ha vissuto i primi 64 anni la propria storia, senza mai conoscere la Biola, credo che abbia certamente una delusione, ma abbia la corazza, lo spirito per poter riprendere. Io ero fiero ed orgoglioso, e lo sono ancora, dei ragazzi, dei bambini di 10 anni, di 11 anni, 18 anni, che avevano smesso di mettere le maglie dell'Inter, della Juve, del Napoli, perché mettevano la maglia del Benevento. Questo per me era il più grande successo. Io mi auguro che abbiano il coraggio, la tenacia, che dovranno avere anche poi nella vita, come ho tentato di fare io, di tenerla incollata sulle proprie spalle. Perché solo incollando sulle proprie spalle le sconfitte, ci può essere un momento di ottimismo. Io sono abituato a essere sconfitto, ma sono anche abituato a riprendermi sempre. Un uomo non è debole perché perde, un uomo è forte perché si riprende. Io non guardo indietro. Domani è un altro giorno. Visto il momento di grande difficoltà, le chiedo se vuole domande dallo studio, se se la sente. Ok, perfetto. Allora Pasquale a voi. Buonasera e ben trovato Presidente. Mi ha colpito un'espressione io sono abituato a perdere, però mi riprendo. Domani è un altro giorno. Da domani, a prescindere dal fatto che oggi manchi ancora l'aritmetica per la certezza della retrocessione in C, a malincuore però da domani si inizierà a riprogrammare e si riprenderà ancora una volta con la stessa voglia, l'impegno, la grinta, il cuore e la passione che ha sempre messo. O sbaglio? Vedi, io ho detto che domani è un altro giorno, i giornalisti siete abituati perché voi scrivete oggi quello che gli altri pensano di essere successo domani. Tu stai dicendo una cosa che dovrebbe succedere domani, dobbiamo prendere l'abitudine di vedere quando succedono le cose. C'è l'altro assioma che io utilizzo sempre. Io dico sempre che ci sono due giorni nell'anno in cui non si può fare più nulla e sono ieri e domani. Noi possiamo solo pensare ad oggi. Io penso solo ad oggi e sono preoccupato e dispiaciuto, amareggiato, profondamente amareggiato per la mia tifoseria, per la tifoseria e per la città. Una città che voi sapete a cui sono legato. A partire dallo stadio che è il nome di mio fratello e ai miei 17 anni che non torneranno più. E l'ora e mezza ho la passeggiata ho le parole e i conforti dopo le sconfitte e gli entusiasmi dopo le vittorie riempiranno per sempre i miei timbani e il mio cuore. Domani non lo so cosa succederà. E non è un modo di dire per far preoccupare la gente. Veramente dico a tutti aspettiamo domani. Fare delle domande su cosa faremo domani, su cosa riprogrammeremo domani è veramente troppo presto. Io sono qui non per salvare la faccia né per fare come altre volte e metterla. Sono qui perché avevo bisogno di parlare con qualcuno. Ho utilizzato i microfono di questa emittente per parlare un po' con qualcuno che ci ascolta. Volevo solo spiegargli che quando si scivola in mezzo alla strada molti ridono perché è una scena anche divertente. Io non ho mai riso ho pensato che qualcuno si era fatto male. e qui non riesco a ridere nemmeno adesso. Billy Nuzzolillo Presidente buonasera comprendo benissimo il suo stato d'animo che è quello di tutti noi appassionati dei colori giallorossi ma credo che sia importante anche evidenziare un aspetto che credo sia consolatorio. Quei 3.000 che sono stati separati sui gradoni del vigorito nelle ultime partite quelli che seguono la squadra in ogni trasferta da loro negli ultimi tempi al di là della delusione è sempre emerso diciamo il pensiero positivo perché dice fino a che c'è il presidente vigorito abbiamo speranze possiamo ripartire abbiamo un futuro quanto è importante per lei che questo nocciolo duro della tifoseria giallorossa le abbia manifestato ancora tutta questa fiducia e questo attaccamento? È così importante che non so più che cosa dire perché loro pensano che senza vigorito non ci potrebbe essere calcio io penso che se questo è vero c'è un'intera città che si deve interrogare perché un uomo non fa il calcio io per quanto possa dare l'idea di essere un presidente isolato sono uno che ha cercato nel calcio amicizie e affetti che non ha avuto tempo di costruirsi nella vita perché ha fatto altre cose le ho avuti ne sono felice per stato ho perso anche molte cose abbiamo perso degli amici per stato ma proprio persi non quelli che non vengono più allo stadio quelli che ci guardano da lassù e immaginate di non offrirgli lo spettacolo la domenica non è una cosa facile nemmeno per me perché io ho sempre pensato che i vari nomi che si sono alternati in curva sud Antonio ci vede da lassù Mario sta sempre con noi corre insieme al pallone mio fratello le persone che mi sono vicine di famiglia sono tutte persone che io so che io ritrovavo la domenica lì nel campo quando passeggiavo da solo sul campo verde e so che li troverò spero che loro possano trovare me che è una cosa più difficile Sonia ultima per te bisogna ritrovare lei i protagonisti calciatori ma i protagonisti tutti di questa disfatta hanno tolto la serie B ai Beneventani ma hanno tolto un presidente come lei alla serie B perché non ce lo dimentichiamo che lei è il vicepresidente eletto all'unanimità una società forte solida in un calcio malato dove prendiamo sempre più atto di tante problematiche che si portano quindi forse non è arrivato il momento di ciò che viene tolto di riprenderselo perché magari questa B e non parliamo di serie A è il luogo perfetto per il Benevento e per Oreste Vigorito cioè molte volte le cose si tolgono ma si possono riacciuffare se c'è la volontà di poterlo fare se si trova la forza di poterlo fare insieme perché è troppo facile usare la parola insieme quando c'è l'annata di record forse bisognerebbe utilizzarla quando ci sta una retrocessione come questa sì è la parola che ha accompagnato la nostra campagna abbonamenti la parola insieme che ha portato la gente di Benevento a offrire alla società Benevento oltre 8 mila abbonanti quindi significa che si sa stare insieme chi non è stato insieme deve farsi una domanda perché noi non siamo retrocessi oggi manca ancora un punto per retrocessi noi siamo retrocessi quando è iniziato questo campionato questo campionato è iniziato sotto l'indifferenza di molte componenti che avrebbero dovuto capire che stavamo per iniziare un nuovo campionato importante per la città e per tutti quanti gli altri e non c'è stato questo quella parola insieme non è stata uguale per tutti quanti quando si sta insieme si racconta tutto all'altra persona alle altre persone non si nasconde niente aver paura di nascondere le cose o dire sempre che si hanno problemi più importanti è accettabile quando il problema principale lo si affronta quando è una città come la nostra che è una città che non è fatta da calciofili in maniera particolare tu metti lo slogan insieme ma sai in fondo di non stare insieme se non a quella gente che paga i 5 biglietti in curva forse sono loro che stanno insieme quelli che oggi ancora qui stavano insieme dove sono anche io sono ancora qui all'ultima giornata dopo una settimana che fra febbre influenza ed altro ho anche difficoltà a parlare io sono insieme ma non perché sia più bravo degli altri perché io quando amo qualcosa lo amo veramente non solo quando mi porta qualcosa altrimenti non sarei mai dovuto venire nemmeno a Benevento perché io non dovevo prendere niente a Benevento e allora non guardiamo alla massa guardiamo a quei pochi che sanno soffrire che sanno stare insieme la ringraziamo le facciamo un grosso augurio a lei e a quei tifosi che c'erano e ci sono sempre stati anche quest'oggi al tombolato grazie presidente sì solo una cosa mi dispiace grazie grazie ringraziamo Oreste Vigorito a te Pasquale grazie grazie al presidente Vigorito grazie a Sol Antella a breve ritorniamo da lei per i saluti perché sono di partenza lei e Fabrizio Angrisani che cura la parte tecnica Billy ripartirei da quel mi dispiace finale che mi ha commosso oggi facciamo fatica oggi facciamo fatica perché davvero il Benevento è stato abituato negli ultimi anni da 17 anni a questa parte nella gestione del patron Vigorito a stare nei piani alti a lottare per il vertice delle classifiche e anche quando si è raggiunti la doppia promozione storica nobili dalla C alla B e poi dalla B alla A la sensazione era che davvero il Benevento avesse trovato la dimensione finalmente dopo 87 anni di quella categoria tanto cercata tanto agognata e adesso che si vede sfuggire via dalle mani per una stagione a dir poco sciagurata ritorno al tombolato da Sonia Lantella per i saluti finali i commenti ricordando Sonia che alla matematica retrocessione il Benevento manca un punto se il Brescia non dovesse perdere domani al Tardini di Parma il Benevento sarà matematicamente retrocesso in Serie C a due giornate dal termine chiaramente si analizzeranno i temi della sfida nefasta contro il Cittadella con il consueto appuntamento del lunedì con 8 gol a te oggi si fa fatica si fa fatica a parlare anche da parte nostra perché è evidente insomma che per quanto fosse una retrocessione annunciata avevamo capito che qualcosa non andava in questa squadra forse lo abbiamo capito dall'inizio della stagione perché c'erano tanti limiti un collega mi scriveva vorrei ma non posso il motto di questo Benevento Calcio di questa annata sicuramente difficile però quest'oggi credo che sia inopportuno forse anche parlare della parte tecnico-tattica che sicuramente affronteremo lunedì in 8 gol perché poi bisogna anche parlare di calcio degli errori commessi ma andremo a commentare i soliti errori difensivi una squadra che ha peccato a mio avviso di equilibrio è mancato quell'equilibrio che ti consentiva di essere completo nel senso che se era una squadra un po' più spregiudicata magari segnava ma poi subiva gol in questo caso tre gol se era una squadra più attenta in difesa riusciva a portare a casa un pareggio perché non riusciva a segnare più dell'avversario quindi sicuramente è una squadra che ha avuto tanti tanti limiti però è anche vero che ora bisognerà gioco forza ripartire e trovare la forza per ripartire perché effettivamente poi le persone realmente ferite tante volte io ricordo i cori dei tifosi quando dicono i calciatori passano ed è così i calciatori passano però chi resta? restano i tifosi e l'augurio chiaramente che resterà anche questo presidente perché è evidente che insieme si potrà ripartire in maniera sicuramente dolorosa non è semplice per nessuno perché c'eravamo talmente tanto abituati a stare in via che stava diventando quasi stretta sembrava quasi d'obbligo dover stare in serie A oggi abbiamo capito che invece anche la B era un lusso l'abbiamo capito quando l'abbiamo praticamente raggiunta in quel campionato con Auteri dove c'erano lacrime di gioia perché finalmente si raggiungeva una categoria così desiderata oggi si piange lacrime di sofferenza perché si capisce di aver perso una categoria forse negli ultimi anni penso alla semifinale playoff col Pisa dello scorso anno all'amarezza snobbata forse oggi si ricapisce il valore di questa categoria ma è anche vero che bisognerà poi leccarsi le ferite e trovare la forza di ripartire perché no perché il calcio insegna anche questo riconquistarla e tornarci con una maturità maggiore d'altronde quando c'è stata la retrocessione dalla B con De Zerbi non si ci pensava di poter tornare subito in serie A e dopo nemmeno due anni con appunto ricordavo la stagione dei record il Benevento è riuscito a ritornare addirittura in serie A quindi l'unico pensiero positivo che in questo momento mi viene è quello di pensare rimbocchiamo le maniche e proviamo a tornare presto in questa categoria dove effettivamente il Benevento non ci sta bene ma ci sta benissimo e ribadisco anche la serie B perde una società importante perde il vicepresidente è una persona apprezzata da tutti quindi veramente si fa fatica a parlare però bisogna anche pensare in maniera positiva guardando al futuro perché se si guarda ad oggi chiaramente insomma non ci resta che piangere visto che insomma si faceva riferimento a tanti aforismi è chiaro insomma che bisogna trovare un pizzico un pizzico di ottimismo e non pensare più ad una squadra che insomma di danni ne ha fatti parecchi grazie grazie a Sonia Lantella che ritroveremo in otto gol lunedì grazie chiaramente alla parte tecnica curata da Fabrizio Angrisani di recente è ricorso il settimo anniversario di quel famoso 30 aprile 2016 quando personalmente ho avuto l'onore e il piacere di commentare per la prima volta la promozione del Benevento dalla CLB e davvero oggi facciamo tutti grande fatica e faccio personalmente una gran fatica ci fermiamo davvero pausa prima pausa per noi dopo l'intervallo a rientro continueremo a commentare questa che di fatto non è oggi la matematica retrocessione in B del Benevento ma ci siamo davvero vicini a tra poco eccoci rientrati in studio gentili telespettatori grazie come sempre perché state seguendo intanto il post partita questo post partita amaro amarissimo in questa sfida ancora una volta nefasta per il Benevento che al diciottesimo e primo tempo l'aveva sbloccata con Pettinari dieci minuti dopo il gol di vita aveva fatto sì che il Cittadella pareggiasse nella ripresa nel finale il tracollo con le reti di Maestrello prima e Carriero poi per il Cittadella che di fatto con questa vittoria si è salvato Billy andiamo a vedere i risultati finora maturati in questa giornata numero 36 terz'ultima della stagione regolare Perugia-Cagliari 0-5 detto del tracollo del Perugia che di fatto vive una situazione analoga a quella del Benevento Cittadella Benevento 3-1 Cosenza-Venezia 1-1 ancora un pari importantissimo il Cosenza dopo la sconfitta col Brescia che davvero consente ai Silani di continuare a coltivare sogni di salvezza passando quantomeno dai play-out Genoa-Ascoli 2-1 oggi c'è un'altra promossa in Serie A è il Genoa di Gilardino che ritorna in Serie A Modena-Bari 1-1 Pisa-Frosinone 1-3 non fa sconti il Frosinone che la scorsa settimana grazie alla vittoria casalinga contro la Regina per 3-1 aveva ottenuto il pass per la A Regina-Como 2-1 Regina di fatti penalizzata ancora di altri 4 punti ricordiamolo prima della gara contro il Como Ternana su Tirol 0-1 fondamentale questa vittoria del su Tirol in chiave play-off detto delle sfide tra Palermo e Spalle che è iniziata alle 16.15 Parma-Brescia invece la sfida di domani alle 16.15 ricordiamolo ancora una volta Billy qualora il Brescia non dovesse perdere contro il Parma raggiungere anche un pareggio il Benevento sarebbe già da domani pomeriggio alle 18.00 circa al termine della partita minuto più minuto meno in Serie C questa è la classifica dopo 36 turni grazie al nostro Paolo Romano in regia Frosinone al momento mi dicono la regia Palermo Spalle 0-0 Frosinone e Genoa promosse in Serie A e poi via via tutte le altre squadre al momento il Bari è terzo il Bari che a due giornate dal termine vuole consolidare la terza posizione che è importante Billy soprattutto in ottica play-off il Venezia aggancia i play-off Billy pensare che il Venezia era invischiato fino a 4-5 giornate fa nella lotta per non retrocedere è giù detto del Benevento Billy sul fondo della classifica 32 Spalle al momento 35 però chiaramente sarebbe a 36 con il pareggio contro il Palermo finora maturato si gioca da circa 20 minuti Brescia 38 Cosenza 39 Billy davvero ci vorrebbe ecco un miracolo il Brescia dovrebbe perdere tre partite per poi il Benevento giocarsi la classifica avulsa ma ripeto il Benevento di oggi Billy non ti dà nemmeno ecco l'idea di poterci sperare fino alla fine cioè una squadra e poi vorrei entrare superato un po' lo shock l'emozione vorrei entrare nei dettagli tecnici anche dei gol presi questa è la lotta per non retrocedere guarda oggi se il Benevento avesse vinto lo avevamo detto almeno dopo 18 minuti il Benevento era in vantaggio con il primo gol stagionale di Pettinari in maglia giallorossa terzo stagionale 35 e si sarebbe riaperto tutto no Billy perché ti saresti portato a tre punti dei play out e il Brescia poi ha anche altri due scontri importanti vedi il cammino il calendario sfida contro Pisa e Palermo che si stanno giocando comunque i play off resta ancora di più l'amaro in bocca Billy guarda questo finale di campionato è stato devo dire nei confronti dei tifosi del Benevento è stato cattivo fra virgolette nel senso che ha consentito di alimentare le speranze perché le altre squadre rallentavano e quindi ti davano ancora la speranza sia pur minima di poter aggrappare la zona play out però c'è da dire che la gara di oggi è una fotografia perfetta di quanto accaduto nel corso dell'intera annata basti pensare che all'inizio del giro di ritorno il Benevento si trovava poco sopra la zona play out c'era ancora qualcuno che pensava che addirittura potesse reinserirsi nella zona play out e sul piano numerico era una considerazione giusta perché abbiamo visto il Venezia come ha ribaltato la situazione ma lo stesso Ascoli che si trova lì che pure aveva avuto momenti di grande difficoltà il problema è che questa squadra come dicevo prima oggi si è sciolta come neve al sole ha dimostrato di essere una squadra scadente è inutile è così è fatto bene è stato l'aggettivo giusto ma arrendevole scadente scadente ma a parte questo ma devi scendere con la bava alla bocca veramente è l'ultima spiaggia devi mangiare l'erba ma soprattutto per chi è a casa ma anche e soprattutto per chi è lì per chi ha sempre lottato per chi ci ha sempre creduto per chi davvero macina chilometri ogni giorno lascia a casa i propri affetti al diario del fatto che ecco parlandone con te anche a microfoni spenti per noi è un lavoro la passione che c'è dietro nella preparazione delle trasferte nell'organizzazione io a breve ti sto lanciando l'assist perché ti faccio vedere una foto che è emblematica nel post partita sui gradoni del tombolato settore ospiti del Cittadella è questo Billy che colpisce in maniera negativa di quest'annata per questi calciatori cioè io ti parlo del terzo gol del Cittadella Billy non avrebbe cambiato nulla il 2 a 2 avresti fatto un punto in ogni caso saresti stato a 5 punti dai play out ci sarebbe cambiato poco però l'errore di Veseli che protegge male palla si lascia superare da Branca non lo stende poi in mezzo Tosca non copre all'altra parte non c'è la copertura di Teglio Letizia cioè Billy davvero lascia inorridito stiamo parlando di serie B allora nel calcio esiste la possibilità che si possa retrocedere così come esiste la sconfitta ma ci sono modi e modi per perdere e per uscire sconfitti questi calciatori lo hanno fatto nel modo peggiore praticamente non hanno lottato c'è stato qualche lieve sensazione così di reazione nel momento in cui è arrivato Agostinelli credo anche in conseguenza della scelta di mettere fuori rosa alcuni calciatori fuori rosa nel senso di non convocarli alcuni calciatori e lì probabilmente è come se qualcuno avesse avuto il timore di finire anche lui fuori dai radar del tecnico e quindi questo che cosa dimostra? dimostra che in precedenza molti di questi non avevano motivazioni non avevano rabbia e il dolore più grande è vedere quella casella che resterà lì dell'ultimo posto perché un conto è arrivare ultimi in serie A che era quel paradiso a cui eri arrivato senza magari neanche sognarlo perché quando il benamento fu promosso per la prima volta in serie B credi che pochi potessero pensare che il benamento potesse addirittura arrivare subito ricordiamo che la promozione che arrivò con Baruni è passata dai pay off pochi o nessuno avrebbe immaginato quell'anno che il benamento potesse arrivare direttamente subito in serie A e vedere oggi questa classifica fa molto male così come fa male vedere il volto dei tifosi presenti sugli spalti di Cittadella o dei tanti altri che erano presenti nell'ultima partita in casa giovani e meno giovani commentami questa foto che ci è arrivata dal web questa foto è emblematica di quello che diceva il presidente dei bambini con la maglia del Benevento un giovane tifoso quello che si è riuscito a fare in questi anni perché qui voglio dire un aspetto io mi sono commosso quando il presidente Vigorito ha lasciato i microfoni tratterendo a stento le racrime perché lui ha sempre detto questo cioè lui voleva che il Benevento potesse diventare perché nelle città di provincia è normale che accada che ci siano i doppio fedici perché è chiaro che tu quando giochi in Serie C ti piace il calcio anche per discutere al bar o per scherzare con gli amici io tifo questo io tifo quest'altro ma poi anche con le tv i grandi campionati la gente però poi alla fine quando il Benevento è arrivato finalmente dopo 87 anni in Serie B l'intento del presidente era proprio quello di avvicinare quanti più giovani a questa maglia facendo di vendicare altre maglie che prima spopolavano e vedere che un ragazzino che ha accolto l'importanza di difare per il Benevento lì sugli spalti del tombolato con le lacrime agli occhi in quella situazione così disperata è qualcosa che fa male e che fotografa un po' quella che è la sconvitta in generale al di là del risultato odierno che rappresenta questa retrocessione nell'inferno della Serie C perché poi ricordiamolo qualcuno in questi anni c'erano i cosiddetti occasionali c'erano quelli che venivano allo stadio perché si giocava in Serie B o in Serie A tant'è vero che il numero è progressivamente diminuito anche nell'anno di Inzaghi prima del Covid ricordiamolo che non erano i numeri dell'anno precedente perché nell'anno in cui alla guida del Benevento c'era Bucchi sembrava quasi scontato che il Benevento dovesse necessariamente tornare in Serie A e il Presidente ha fatto bene a sottolineare anche questo aspetto la Serie B perché io vorrei ricordare una cosa spesso nelle discussioni e nell'analisi dei tifosi si parte dalle dimissioni del Presidente di quest'estate e si dimentica un antefatto importante che poi era la precondizione che portò alle dimissioni del Presidente al di là dell'aspetto dello striscione che apparve allo stadio perché ricordiamolo che l'anno scorso dopo che il Benevento aveva anche la possibilità della promozione diretta l'aveva sciupato però aveva comunque in ogni caso raggiunto la semifinale del playoff ricordo il clima e non aveva guadagnato l'accesso in finale per il peggior piazzamento in classifica 1-0 all'andata vittoria 1-0 sconfitta a ritorno ricordiamo voglio ricordare il clima che c'era il clima di sfiducia le critiche nei confronti dell'allenatore di Fabio Caserta che poi guarda caso negli ultimi tempi c'era qualcuno che auspicava dopo aver criticato ferocemente l'allenatore auspicava un suo ritorno allora ecco io dico che secondo me questa annata va vista nel suo complessivo sicuramente anche a partire da noi giornalisti che probabilmente abbiamo sottovalutato io ricordi bene io ricordo perfettamente te ne devo dare atto nella vittoria dall'ora del Benevento targata Cannavaro contro la SPAL in trasferta qualcuno chiaramente anche degli addetti ai lavori faceva riferimento al possibile piazzamento playoff ma diamo a Cesare quel che è di Cesare ti devo dare atto che fossi il primo a dire post offside post SPAL Benevento restiamo con i piedi per terra perché dobbiamo raggiungere la salvezza e poi tutto quello che avviene sarà tutto di guadagnato e tanto di guadagnato e infatti ci aveva visto lungo ma non perché volevi essere una ruspice assolutamente o chiaramente volessi il male del Benevento ma perché si aveva la sensazione che fosse una vittoria estemporanea Pasquale quando segui il calcio da tanti anni al di là se è un lavoro o meno ma quando la passione ti spinge a seguire le vicende calcistiche per tanti anni ti rendi conto che quando un'annata parte male ci sono tanti segnali concomitanti allora ci sono degli errori gravissimi sicuramente compiuti nel corso di quest'annata lo stesso Presidente Vigorito nella intervista al Corriere dello Sport si assunse la responsabilità degli errori si ha mise cannidamente e quindi lo ha ribadito anche oggi poi ci sono state altre scelte insomma ma soprattutto io devo dire che il Presidente in quell'intervista disse una cosa importante disse se c'è bisogno vorrei capire perché tanti calciatori vogliono andare via da Benevento e vanno via senza neanche salutare io credo che bisogna ripartire da quella considerazione del Presidente bisogna capire perché tutto ciò accade perché credo che uno dei tanti problemi emersi quest'anno al di là delle scelte al di là dell'arrivo di Cannavaro che a mio avviso al pari di quello di Stellone è stata una grande sciagura per i motivi che ti dice l'altra volta perché quel richiamo di preparazione a mio avviso ha creato problemi di carattere muscolare che poi hanno messo nelle condizioni che il Benevento dovesse giocare delle partite addirittura con 13-12 infortunati fuori da là ma detto ciò voglio dire è quella l'essenza a mio avviso perché questa squadra è scivolata via sul fondo della classifica senza avere un minimo di reazioni di orgoglio e quindi credo che nel cuore di questo gruppo ci fosse qualcosa che non andava e che poi alla fine ha determinato questo scioglimento come dicevo prima della neve al sole assolutamente sì intanto il Palermo in vantaggio con la SPAL per effetto della rete di Brunori ce ne andiamo per l'ultima volta in pubblicità dopo il rientro in studio i saluti finali i commenti finali perché ricordiamolo che mancano ancora due partite di campionato e la certezza dell'aritmetica retrocessione del Benevento non ancora è arrivata tra poco ultima parte di Offside Serie B nel post partita di Cittadella Benevento il Benevento esce sconfitto 3-1 dal tombolato e dice quasi addio alla Serie B Billy c'è un aspetto positivo anche nei momenti più bui bisogna avere la capacità di guardare oltre e devo dire che questa retrocessione anticipata anche nei tempi rispetto al finale di campionato ha un vantaggio quella di poter iniziare la programmazione della prossima stagione con largo anticipo perché c'era da scegliere il direttore sportivo ovviamente potevi sceglierlo adesso ma a cosa sarebbe servito se non sapevi se il prossimo anno avresti disputato la Serie B o la Serie C ora sai che disputerai la Serie C e quindi puoi iniziare dal primo tassello che è quello della scelta del direttore sportivo poi tieni conto che tutti quanti noi io per prima avevo evidenziato che ci sono situazioni che potrebbero determinare eventuali ripescaggi però ti faccio anche notare ricordi il Cosenza di alcuni anni fa che fu ripescato all'ultimo e fu costretto nell'anno dei record del Benevento mi sembra fu costretto a mettere su la rosa aveva costruito una squadra per la Serie C dovete cambiare tutto negli ultimi giorni di mercato perché fu ripescato in Serie B ma vuoi anche lo stilicido di dover aspettare sino all'ultimo di restare appesi ad un filo sottile senza poter programmare la stagione successiva a questo punto credo che bisogna ripartire da questo aspetto coglierne la positività e iniziare a lavorare per cominciare un nuovo ciclo che purtroppo ahimè parte dalla Serie C parte e riparte dalla Serie C ma infatti anche questo personalmente avevo chiesto al Presidente quando chiaramente e che cosa intendesse mentre mi dicono la regina di Palermo ha raddoppiato 2-0 quindi aumentano a maggior ragione Billy ancora una volta rimpianti perché il Benevento per 27 minuti è stato a quota 35 con la spalla e poi ricordiamolo Billy che anche in caso di un'eventuale vittoria del Brescia comunque saresti rimasto a 4 punti dal Cosenza sarebbe rimasto davvero tutto in ballo per questo ancora una volta cresce il rammarico aumenta il rammarico certo è che il Presidente ha fatto un gran bell'esempio siamo sembrati come quello studeco e gli studenti che vogliono recuperare tutto nell'ultimo trimestre ancora una volta vediamo il cammino per il retrocedere io vado oltre io alla luce di quanto ho visto oggi in campo e nel corso di quest'annata dico che praticamente è finita una lunga agonia per i tifosi del Benevento di fatto sì potrebbe chiaramente potrebbe cioè tu pensi che questa squadra no no ma il problema è quello Billy che abbiamo visto oggi anche in un ipotetico play out esatto no ma assolutamente poi tra l'altro con quegli errori difensivi continui ripetuti per tutta la stagione con questi protagonisti immagino poi un eventuale magari play out Cosenza Benevento un'eventuale finale di ritorno Billy play out con i cosiddetti ragazzini terribili che danno che danno l'anima che si sono dannati e pensare Billy che Cosenza Benevento al ritorno è terminato 1-1 contro una squadra che era contestata che era praticamente morta e da lì è iniziata una nuova stagione per il Cosenza il Venezia Billy il Venezia ricordi quando arrivò Benevento e vinse praticamente poi da lì non ha quasi più perso oggi ha rallentato un po' la marcia per il play off però intanto quantomeno vedi c'è è comunque lì perché anche il Palermo si rilancia e poi Billy ha maggior ragione il calendario favorito il Benevento ma noi abbiamo rilanciato un po' tutti il problema che si evidenziate anche oggi questa è una squadra senza attributi non c'è altro da aggiungere caro Pasquale no assolutamente sì e poi ripeto ancora una volta l'aiuto te lo dava ancora una volta Billy il calendario perché il Brescia che nelle ultime giornate affronta Pisa e Palermo lanciate verso i play off e anche il cosiddetto anche il Cittadella che almeno oggi no se tu avessi battuto il Cittadella poi va a Bolzano e il Suttirovo vuole blindare il quarto posto no a maggior ragione aumenta il rammarico e ricordiamolo che poi a prescindere da tutto il Benevento comunque giocherà l'ultima sabato prossima in casa e poi venerdì 19 contro il Perugia e ricordiamolo Billy ancora una volta per chi non lo sapesse se si fosse collegato adesso ma di fatto è così è sotto gli occhi di tutti che il Brescia è impegnato domani alle 16.15 al Tardini di Parma se non perde decreterà alle 18.15 circa l'aritmetica retrocessione del Benevento in serie C e ritorno però al Presidente che siamo praticamente in chiusura quando gli chiedevo domani un altro giorno chiaramente figurativamente parlando e lui l'ha colto benissimo facevo riferimento al fatto che sbollita l'amarezza la rabbia e la delusione uno come lui del resto lo aveva già detto no ripartiremo gestione contenuta costi contenuti con una squadra attenta e accorta ma poi del resto l'ha detto anche Sonia ha fatto l'esempio del Perugia Perugia retrocede e risale subito in lì Vedi caro Pasquale quest'annata ha dimostrato proprio quello che diceva il Presidente Figurito che ha usato il termine sostenibilità quando ha fatto l'intervista al Corriere dello Sport rispetto alle scelte future quest'annata ha dimostrato sia in serie A che in serie B hanno vinto due club il Napoli e il Frosinone che hanno i bilanci a posto hanno tagliato hanno fatto messo in atto un contenimento delle spese e hanno lavorato molto sui giovani io credo che bisogna ripartire da questi due aspetti e quindi chiaramente vedo il Presidente che in questo momento ovviamente è amareggiato più di tutti dopo che lui ha questa passione è stato l'ultimo a crederci fino in fondo alla possibilità di salvarsi tant'è vero l'ennesima scossa il cambio con Stellone ma no poi ha seguito anche gli allenamenti quotidianamente della squadra per stare lì quindi figurarsi un po' ma credo che il Presidente ripartirà da questo aspetto qua il calcio sta cambiando non è più il calcio di un tempo in cui bisognava immettere soldi quelli dei mecenati perché quel calcio è finito oggi bisogna puntare sulla sostenibilità e credo che figurita da domani sbollita la delusione la rabbia anche rabbia assolutamente per questa retrocessione amara si rimboccherà le maniche e comincerà a pensare e a programmare per il futuro partendo soprattutto da un grande patrimonio che sono quei 3.000 o quei 200 che continuano a seguire il benemento anche in un'annata disastrosa come quella odierna perché in questa annata diciamoci chiaramente c'è una sola cosa da salvare Pasquale che finalmente abbiamo rivisto una curva unita che negli altri anni c'era mancata negli ultimi anni e quindi bisogna ripartire da questa base per poter programmare la risalita in Serie B che chiaramente potrebbe senza mettere pressione che potrebbe pure non avvenire la Serie C è infernale potrebbe pure non avvenire al primo anno vediamo quest'anno il Crotone che sembra sulla carta la squadra più attrezzata ha dovuto diciamo soccombere rispetto ad un Catanzaro che è venuto fuori e ha fatto una stagione fenomenale con dei numeri impressionanti e il Crotone è costretto a passare attraverso il gioco dei playoff che sappiamo se è una lotteria a maggior ragione la nuova formula dei playoff della C la nuova formula sono ancora peggiori perché si giocano prima quelli di Gironi e poi quelli nazionali ancora più infernale di quelli che conosciamo noi certo assolutamente sì i tifosi chiaramente Billi siamo sul finire di questa puntata i tifosi un patrimonio da salvare un patrimonio da salvare anche i giovani un fattore C come ai noi Serie C ma anche come Lorenzo Carfora che è una delle poche note liete sul finale di questa stagione o di questa stagione in generale ma anche ad esempio il caso di Italia che a potenza si è conquistato la maglia di isolare quindi un ragazzo che ha già conosciuto quest'anno la Serie C che aveva tanto talento si è fatto le cosiddette osse esatto per cui chiaramente ci sono altri giovani che magari potrebbero essere diciamo così molto utili alla causa giallorossa nella Serie C e chiaramente staremo a vedere che ovviamente nella giornata di lunedì andrà in onda anche la nefasta partita che di fatto ha quasi decretato l'aritmetica retrocessione ai noi dice Billy ai medi io aggiungo ai noi retrocessione amarissima di Benevento in Serie C chiaramente con il nostro commento ovviamente Billy ci ritroveremo a prescindere nel post-gara sabato prossimo sabato 13 alle 16 nel post-gara di Benevento-Modene perché ricordiamo al termine della stagione regolare mancano comunque due partite che Benevento affronterà contro Modene prima e Perugia poi io ti ringrazio grazie a te e un saluto degli spettatori grazie a quanti ci hanno seguito ancora una volta per questa puntata continuate a seguirci sui nostri canali social sul nostro sito 8chanel.tv e 8pagine.it grazie a Paolo Romano che ha curato come sempre la regia l'appuntamento con Offside Serie B è di fatti a sabato prossimo alle 16 buona serata a tutti grazie a tutti